Equilibrio ragazzi, dietro questo sostantivo c'è un mondo perché c'è l'equilibrio tattico, per esempio quello che la Juventus ha trovato nelle ultime due uscite contro prima il Chelsea Champions League e poi il Torino in campionato, quindi c'è anche un equilibrio che gradualmente ha consentito la Juventus di trovare tra campionato e l'Europa che conta quattro successi di fila. Poi c'è l'equilibrio mediatico con questa cassa di risonanza a rivedere legittimamente la Juventus a cambiare un ruolino di marcia e quindi anche ambizioni e c'è poi l'equilibrio dei tifosi che non hanno mai equilibrio ma proprio perché l'essere tifoso ti porta difficilmente ad essere razionale in momenti di maggiore bufera e al tempo stesso l'esaltazione quando le cose vanno bene viene ovviamente esasperata e alimentata dal tifo che resta la scintilla che poi tiene in vita tutti noi perché senza questa scintilla non saremmo qui a discutere di calcio ed è quindi normale che l'equilibrio tra i tifosi sia sempre un po' un confine molto molto flebile e sottile. In generale però credo che si debbano tenere i piedi ben piantati al suolo perché la Juventus non era una squadra formata da brocchi a inizionata calcistica quando Szczesny per esempio ti rovinava la giornata di Udine quando per esempio Szczesny e Ken ti rovinavano la giornata di Napoli quando la Juventus non ingranava. E ora la Juventus non è una squadra di fenomeni pur avendo avuto la meglio contro i campioni d'Europa in carica pur avendo avuto la meglio in un derby che alla vigilia era tra i più equilibrati della storia recente e che ha visto invece la Juventus meritatamente poi superare gli uomini di Ivan Juric. Quindi ci vuole equilibrio. Questo sostantivo dobbiamo tenerlo a mente e soprattutto bisogna fare in modo che non ci siano eccessi da una parte e dall'altra. E' chiaro che guardando la classifica in questo momento si vede la Juventus che mattoncino dopo mattoncino sta costruendo un edificio sempre più solido quanto solido lo capiremo al termine della stagione ma rispetto al post Udine, rispetto al post Empoli, rispetto alla beffa del pareggio contro il Milan che continua secondo me ad assomigliare a una beffa in relazione poi al lato A proposto dai bianconeri è chiaro che ora se guardiamo la classifica iniziamo a vedere qualcosa di interessante quanto interessante perché questa è la domanda che si pongono i tifosi che se la fanno soprattutto in questo periodo di noia sovrana perché la sosta con tutto rispetto poi per gli impegni per le nazionali comunque è noia per me sosta diventa sinonimo di noia perché sul più bello poi ci rifermiamo ribadisco massimo rispetto per le nazionali però c'è sempre voglia di vedere calcio legato ai club e quindi in questo periodo di stanca in queste due settimane è normale che ci saranno tanti interrogativi ed è normale che poi prevarrà la fase di analisi di questa primissima parte di stagione io credo che complessivamente perché poi questa domanda è la classica domanda da bar, da palestra, da amici faccio molta fatica a trovare ancora una risposta che possa essere poi giusta non che io sia il depositario della verità ma credo che tutti noi poi maturiamo i nostri concetti e tendiamo anche alle volte ad imporli ai nostri amici o quantomeno a cercare di far prevalere la nostra corrente di pensiero in generale non sono così convinto che questa sia destinata ad essere una stagione semplice per la Juventus perché vedo squadre molto attrezzate è vero che nell'ultima sessione di mercato si sono persi pezzi pregiati in termini di Serie A da Romelu Lukaku, Achini, Cristiano Ronaldo però il livello collettivo mi sembra che si sia alzato soprattutto perché hanno impattato ai migliori dei modi determinate allenatori basta vedere Luciano Spalletti che finora in campionato con il Napoli le ha vinte tutte Simone Inzaghi sta facendo il suo con l'Inter Giuseppe Mourinho non è partito male con la Roma e lo stesso Max Allegri dopo un avvio complicatissimo ha iniziato a dimostrare di poter portare la Juventus a determinati livelli quindi abbiamo meno campioni ma il livello mi sembra più equilibrato quindi Allegri inizia stagione e diceva non vedo una squadra capace di dominare questo campionato vedo l'opportunità di perdere qua e là tanti punti ma anche di guadagnarne altri durante il cammino allora io credo che in generale per quanto si sia visto ora il Napoli meriti assolutamente di stare lì però per me la squadra più forte a livello di identità e di mentalità resta il Milan e lo dimostra la partita dello stadio dove il Milan si è presentato a Torino con molteplici defezioni e comunque in un modo o nell'altro grazie a quella zuccata e a quell'ingenuità della Juventus di Rebic ha trovato un punto che poi può fare la differenza al termine della stagione quindi De Gussibus per me in Milan resta la squadra più attrezzata a livello di organico e di mentalità per vincere questo scudetto poi c'è l'Inter che è un'altra squadra molto forte che può anche sviluppare l'eredità di Antonio Conte in termini individuali hanno perso molto perché quando perde Kimi e Lukaku perde due giocatori importanti però Marotta anche lui è riuscito a venirne a capo costruendo una rosa sensata e in questo momento Edin Dzeko si sta rivelando un acquisto e come felice però se devo dire una squadra che secondo me ha la mentalità giusta per mantenere questo tipo di cammino a meno che non scoppi fisicamente come è accaduto nella seconda parte della scorsa stagione dico il Milan sicuramente i cammini di Milan, Inter e Napoli in questo momento non dico che siano difficili da emulare, da imitare però queste squadre non hanno perso i punti sanguinosi che ha perso la Juventus nelle prinze abbattute e comunque se tu avessi avuto due punti in più di Udine non avessi perso in casa contro l'Empoli già avere magari 4-5 punti in più ti cambia il volto di una classifica e qui torniamo al concetto iniziale di questo video equilibrio questi punti rischiano di pesare enormemente ma al tempo stesso questa stagione a prescindere dai titoli o meno deve lasciare qualcosa di costruttivo deve lasciare una identità deve lasciare la crescita esponenziale di determinati calciatori deve portare i giovani che non sono giovani a diventare leader penso a Federico Chiesa, a Matthijs De Ligt noi tra un anno di questi tempi dovremo parlare di questi giocatori già come leader e lì significa che se lo faremo significherà che dietro c'è stato un lavoro e che questo lavoro è stato completato quindi io credo che mai come in questa stagione non si debba pensare agli obiettivi non si debba pensare ai titoli non si debba pensare troppo in grande si deve pensare allenamento dopo allenamento partita dopo partita perché comunque al netto di tutto resto veramente convinto che la Juventus abbia delle ottime potenzialità ribadisco non so se da titolo se da elite di Champions League se da vittoria della Coppa Italia la vittoria della Supercoppa Italiana questo non lo so, non lo sappiamo lo scopriremo solamente speriamo, vivendo in generale però se già vediamo la Juventus l'ultima settimana confrontata con quella che ha affrontato l'Udinese, l'Empoli le altre partite tragiche anche quelle contro la Spezia di inizio stagione significa che la Juventus può quindi trovare equilibrio che può proporre un certo tipo di calcio e al tempo stesso anche una determinata solidità quindi le potenzialità ci sono quindi dovrà essere bravo Allegri con il suo staff a fare in modo che la Juventus performi in una determinata maniera però io dico è giusto che poi ribadisco i tifosi di equilibrio ne abbiano anche poco come è accaduto in questa settimana perché godano anche dei successi dei propri Beniamini perché siamo sempre i primi a massacrare anche mediaticamente non solo la squadra quando le cose non vanno bene quando viene fatto un autentico miracolo come quello contro il Chelsea come viene fatta una bella partita come quella con il Torino considerando le defezioni da davanti credo che sia giusto anche un pochettino andare oltre e quindi soffermarsi su quanto di buono proposto nel recentissimo periodo dai bianconeri però calma calma perché non si era Brocchi prima non si fenomeni ora c'è da pedalare c'è da pedalare tantissimo ma la buona notizia è che Allegri mi sembra che sia entrato nel giusto mood che abbia compreso il momento del bastone quando si è messo lì a tra virgolette attaccare coloro che entravano dalla panchina e non incidevano su tutti i culuseschi che invece contro il Toro ha inciso e come ha fatto secondo me il panico in quei 10-12 minuti che ha giocato ha trovato anche un palo ma soprattutto al di là del palo del gol dell'assist conta l'atteggiamento conta la mentalità conta il voler aiutare i compagni in un momento di difficoltà nel momento di maggiore spinta cioè essere gruppo è questo e arrivare tutti assieme collettivamente a centrare l'obiettivo prima il noi poi l'io anzi l'io è meglio che proprio non si metta a meno che tu non ti chiami Cristiano Ronaldo e in generale quindi io sono fiducioso sul fatto che vedremo delle partite ancora galliarde della Juve che si potrà migliorare che attraverso anche magari chi rientra gli infortuni su tutti Artur si possa fare un ulteriore step di crescita in termini qualitativi però questa deve essere una stagione dove dobbiamo metterci in testa che può essere molto complicata dove ti puoi venire l'Empoli di turno a fare il risultato e al tempo stesso come puoi battere il Chelsea è così è così è una stagione che va accettata ma deve essere una stagione costruttiva quindi tra un anno ribadisco dovremo parlare di determinati aspetti come già sodati come già archiviati come certezze se ciò verrà fatto a prescindere i titoli significherà che il lavoro del primo Max Allegri 2.0 sarà stato soddisfacente vedremo vedremo però mi raccomando ragazzi equilibrio un abbraccio